è vero, ragazzi Sergio Prio è cresciuto Sergio Prio ha giocato nella primavera della Juve ma non giocava mai perché c'era la pubbalgia no, ha giocato nella primavera della Juve ragazzi, non lo volevi dire, ma è così era con noi, noi andavamo al Calbi e tu eri e io portavo il secchio con la... allora ora ne parliamo ovviamente è un passato comune sia da attore che da calciatore c'è, proprio la stessa carriera chi più chi meno, chi più chi meno però dicevo, ci sono persone che sono state indispensabili per il libro e erano all'altra presentazione però vedo tanti volti che non c'erano l'altra volta e allora ringrazio espressamente qua Valentino Maimone di Errorigiudiziari.com che va con un contenuto lui, che è venuto da calci dà un contenuto fondamentale perché io volevo che il libro uscisse anche solo dalla dinamica Juventino e basta e racconta alcune dinamiche noi ci chiediamo come è possibile che accada questo il PM di Capiodio e racconta bene cosa succede in tanti casi partendo addirittura lui addirittura parte da un non un paragone ma una qualche analogia tra Enzo Torto e la Juventus credo molto interessante e poi saluta